Firmata la Convenzione sulle seconde categorie con la Regione Toscana, che mette a disposizione del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno una somma importante, 1.370.000 euro per la manutenzione dei corsi d'acqua classificati in seconda categoria. Risorse che sono state messe a disposizione dalla Regione Toscana e dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Settentrionale e che mirano a garantire una maggiore sicurezza idraulica del nostro comprensorio, visto anche che sono interessati corsi d'acqua importanti e delicati da manutenere e da vigilare. Gli interventi sono stati divisi in sei lotti che andranno in appalto. Abbiamo fatto un accordo quadro che ci permette di fare gli interventi puntuali e precisi di ripristino e consolidamento arginale e abbiamo anche quattro lotti che invece faremo in amministrazione diretta con le nostre squadre di operai e utilizzando i nostri mezzi. Questi interventi opereremo tagli, sfalci, riattopperemo le buche negli argini, insomma faremo tutti quegli interventi necessari a garantire l'efficiosità idraulica dei nostri fiumi. Sì, già il nostro piano di attività affronta i canali di terza, quarta, quinta categoria dove abbiamo investito quasi 9 milioni di euro quest'anno. Quindi questi 1 milione e 400 si vanno ad aggiungere a già una programmazione di manutenzione fluviale fatta sul territorio. Quindi con questi interventi garantiamo la continuazione dell'operatività idraulica dei nostri fiumi.